Atletico Sardinia contro Bastarduso al campo Sporting Bola di Quartus Sant'Elena Gara utile soprattutto per la formazione ospite che vuole provare ad arrivare terza Sex Largius permettendo, l'Atletico Sardinia è sostanzialmente già matematicamente secondo Dal momento che per superare il River Plate la squadra di Mirko Senes dovrebbe vincere 11-0 I Bastarduso partono bene e al sesto minuto Fabio Fiori con questo destro chirurgico dal lato destro in area Sblocca il punteggio La formazione di Moy alla palla del 2-0 poco dopo con Luca Cocco La cui conclusione dalla destra si perde di poco alta Ancora Bastarduso pericolosi due volte prima del termine della prima frazione In ambo i casi con Matteo Paulis che in quest'ultima circostanza spreca tutto di fatto Calciando addosso al portiere avversario Casula Al termine del primo tempo Atletico Sardinia a 0, Bastarduso 1 Formazione ospite che parte bene anche nella ripresa E con un pelo di fortuna al secondo minuto Fabio Fiori realizza la doppietta personale con uno splendido destro che si insalca imparabilmente Alla sinistra di Casula la reazione dell'Atletico Fumosa sicuramente ma altrettanto coraggiosa E anche un pelo sfortunata come abbiamo appena visto Qui nel frattempo un leri strepitoso su Milia E poi ancora gialloneri sfortunati con il loro secondo palo di giornata colpito da Fabrizio Sanna Quasi inespettatamente al cinquantesimo minuto la formazione giallonera riduce le distanze E lo fa direttamente con il proprio portiere Casula Che lascia partire una cannonata da centrocampo che si insalca alla destra di Ulleri La formazione giallonera ci crede, ci prova Piciao dalla sinistra La sua conclusione a tagliare verso il primo palo Esce non di molto Passano non più di dieci secondi E il Bastardusu trova la rete del 3-1 Che purtroppo le telecamere non riescono a riprendere L'autore del gol è Matteo Paulis Botte risposte continue nel finale di partita Visto che passano altri 60 secondi E Milia fa Atletico Sardini a 2 Bastardusu 3 C'è ancora tempo però al cinquantatresimo minuto Per osservare questo spettacolare gol di Matteo Paulis Doppietta personale anche per lui Finale dallo Sporting Bola Atletico Sardini a 2 Bastardusu 4 Quattro